La vita di oggi è frenetica, ma dal punto di vista lavorativo e anche sportivo è spesso sedentaria, legata ai computer. Diventa dunque importante una sana attività sportiva in chiave benessere. I benefici dell'attività sportiva non solo per l'adulto ma anche per il giovane? Soprattutto nel giovane l'attività sportiva è fondamentale perché permette certe modifiche psicosomatiche che vengono proiettate poi nel futuro dell'adulto. Quindi fare attività fisica da giovani garantisce un futuro migliore. Su che cosa in particolare agisce? Agisce su una serie di processi metabolici sia fisici che psicologici che permettono uno sviluppo migliore. Quindi uno sviluppo più consapevole, più determinato e alzano la determinazione nel realizzare obiettivi. Parliamo quindi di sviluppo muscolo-scheletrico? Sì, lo sviluppo muscolo-scheletrico è fondamentale perché ovviamente certi processi avvengono soltanto nel periodo dello sviluppo. Per esempio il cardiovascolare si sviluppa dai 12 ai 18 anni, quindi un ragazzo che fa sport dai 12 ai 18 anni si garantisce uno sviluppo cardiovascolare. Ma non solo, è fondamentale per lo sviluppo psicosomatico. Quindi i benefici in generale sono molteplici? Certo, abbracciano tutto l'essere, non soltanto l'aspetto fisico ma anche l'aspetto mentale perché men sana in corpore sano, dicevano i latini. Questo vuol dire che più un ragazzo è determinato a soffrire per lo sport e più diventa capace a soffrire nella vita per raggiungere i suoi obiettivi. Fare attività fisica è importante per l'intero organismo? Più il sistema nervoso si compatta per resistere alla fatica fisica, più la fatica fisica gli permette di avere un sistema nervoso più forte. Si può considerare una questione biochimica? Il fare sport gratifica e quindi ci permette di non ricorrere ad altri tipi di gratificazioni. Il motivo del dilagare di tossicodipendenza, dipendenza dall'alcol e da altre cose è perché i ragazzi non fanno più fatica fisica, perché la fatica fisica ci permette di essere forti e di resistere ad altri tipi di tentazioni. Quindi un consiglio? Fate sport, tanto, controllato, determinato, seguite chi vi dà consigli nello sport perché permette di migliorarvi e di raggiungere obiettivi più importanti.